Coi vostri concetti La via della conoscenza attraverso attilio m.vocedellacuete.vajanocchiocciola.gmail.com Una voce Queste voci dell'oltre vi guideranno adeguandosi in parte alla vostra capacità di comprensione, ma continuando a sottolineare come gratuità, vita e amore siano tre concetti che parlano dell'identica cosa, ovvero sia di quel mistero che non può essere ritradotto coi vostri concetti. Non tentate di far vostro il mistero, perché ogni tentativo di comprenderlo vi porta lontano. Lasciate che la via della conoscenza apra un barco dentro di voi, sottraendovi i concetti con cui vi costruite un mondo che è per voi. Vita, gratuità ed amore non sono realtà dipendenti l'una dall'altra, ma sono un'unica realtà che riguarda la stessa indicibilità, che però voi potete comprendere a partire da tre diverse angolature. Quindi, parlando di vita, non si può non parlare anche di gratuità, che è amore immotivato, come non si può parlare di gratuità senza tener conto di ciò che la fa emergere dall'onda della vita. Ma non si può neanche parlare di gratuità senza vedere in essa un infinito amore, che nulla ha a che vedere con la pretesa umana di donare per perseguire un'utilità propria o altrui. Stiamo parlando dell'amore che attraversa ogni essere e che è manifestazione di ciò che non ha sede in lui, perché lo trascende e rimane insondabile anche nel momento in cui lui lo esprime attraverso un'azione, un pensiero e un'emozione. Grazie. 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 Grazie.